ed eccoci qui appena finita la partita Gubbio che perde 2 a 0 contro il Cesina purtroppo il Cesina è davvero troppo forte se niente la fa si sapeva quindi non si è potuto fare niente purtroppo però abbiamo giocato abbastanza bene secondo me tre quattro occasioni ce le abbiamo avute di Massimo nel primo tempo poi Bernardotto nel secondo tempo Mercati nel primo tempo e quindi qualcosina abbiamo fatto anzi però davvero troppo forti questi tra l'altro il primo gol bel gol a Damo e quindi loro oramai hanno quasi in Serie B se poi lì a 9 punti dalla seconda quindi per me quasi quasi piede tre quarti secondo me in Serie B prossima partita che sarà contro il Perugia e lì toccherà assolutamente vince anche se il margine dal sesto posto visto dei 6 punti dal Pescara quindi se potrebbe anche perdere ma io col Perugia voglio sempre vince assolutamente porca troia anche perché siamo a 4 punti da loro quindi dal quarto posto e quindi c'è assolutamente bisogno da vincere un'altra volta poi in casa è tutta un'altra storia contro chiunque siamo un fortino quasi in casa quindi c'è una buona speranza e speriamo tra l'altro oggi abbiamo trovato anche un Pissedi tra l'altro ex cubbio una stagione 13-14 con noi in forma strepitosa che ha fatto 3-4 miracoli quindi per me migliori in campo insieme con Spendi e Adamo ci metto anche Pisseri e quindi davvero una squadra completa portiere forte tutto forte attacco forte c'è ben poco a di oggi sinceramente non mi sento di niente dalla squadra anzi abbiamo fatto anche tanto secondo me abbiamo fatto parecchio creato le quattro occasioni contro queste corazzate ne da tutti secondo me quindi va bene così purtroppo c'è anche e toccati anche hanno forti quindi se no astura ne erano al primo posto però però nel prossimo partita col Perugia assolutamente vincere assolutamente vincere assolutamente anche perché ci avevamo vinto nel lockdown nel secondo lockdown se non ricordo male quella volta quindi non sarebbe male come un altro exploit del nubio e oggi tra l'altro nemmo giocato anche male anzi se poi lì che abbiamo creato abbastanza ecco l'occasione di Bernardotto peccato sopra la traversa comunque io sinceramente della prestazione sono soddisfatto ovviamente il risultato è rimane con la con la roba il gaiardetto del peluccia così gli davamo a fuoco in diretta e quindi niente non ne sta bene né con la roma con la fiorentina abbiamo messo un pari alla maglia della Lazio e ne tantomeno questa col Gubbio prima o poi incontro pronostico toccherà a prenderlo porca puttana e quindi vedremo un po' e quindi niente bene secondo me migliori in campo Bernardotto ci metto anche di massimo secondo me ne hanno giocato male ma un po' tutta la squadra secondo me alla fine non è modemeritato per niente e quindi niente se poi le perde contro le squadre forti assolutamente oggi però si è perso con dignità perché ci hanno provato anche l'occasione di massimo quindi per l'appunto ci metto anche mercati e quindi niente vabbè che vogliamo fa tanto siamo a un buon posto a fin fine e quindi niente appuntamento alla prossima col Perugia vai vincemo speriamo bene appuntamento alla prossima e sempre 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 forza Gubbio